Ciao a tutti ragazzi bentornati, stavo girovagando per darmi un sito quando c'è una richiesta a radio Aiuto, anzi, Mayday, se è così che si dice per radio Sono Rex Goodman, mi tengono prigioniero in cima alla Trinity Tower Temo che presto sarò divorato dai super mutanti Questo messaggio sarà ripetuto Oh merda, devo staccare, arriva un super mutante Aiuto, anzi, Mayday, se... Vediamo se mi blocco nel video Comunque, andiamo... Andiamo a farla messa E' un po' che cosa succede 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 E' un'altra rotta, no? A proposito... Cattiglia... Ok... Un'altra rotta, no? Un'altra rotta? Ok... Ok... Ehm... Ok... Questo... Questo è un bug, veramente... Questo è un bug beso, eh? Questo... Non c'era prima ragazzi, l'ho fatto tranquillamente, non c'era... Questa cosa... Questo può essere veramente problematico... Un bug... Non so se c'è qualcosa qua... Ah! 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 Chiarai! F���mo quiадri! Tu! Ce ne sono quello più debilit di noi! Così adesso no iddio elevation! Se non sanno uccidere umani valgono meno di niente Tranquillo vero anche da te Da che salvo Combatti bene per essere umano ma morerai Miei guerrieri aspettano te Sprappolo cervello Contraattacco Non provo domani E questo dobbiamo uno scopo O cazzo O cazzo Che va? Mi nascondo per la mia Troppi movimenti Aspetta faccio la coppia O cazzo O cazzo O cazzo O cazzo O cazzo Mi stavo appena riscaldando Uccidiamo umani Uccidiamole tutti Ma meglio non perdersi cose utili Ehi Umano sparito Non vale Quasi come super mutante Forse mettiamo te In gambia Con strong Erex So che umano è qui Basta nascondersi Cioè non verrei dire ma Anche voi eravate umani eh Non è che siete molti fuori Così dal nulla Umano fuori ovunque si trova Giochiamo piccolo umano Una lezione esemplare Ho ragione signore Si Oh non c'è Uccido Cosa Umano Ehm No Qui 49 colpi 93 Stato 4 Stato 4 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 Ottimo Calibro 50 è interessante Calibro potente Revolver Va bene Compresa Non sarà umano Sono tanto gratis Inguardati Non sto neanche sudando Inverto E non lo so mai Non lo so 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 Qualcun Faccio collana Con denti di umano Ehm Questa cosa È veramente fastidiosa Rumore cos'è Humano là fuori Da qualche parte Beh Bene Ah Buongiorno Ah Via potrei andare avanti tutto il giorno umano si nasconda pure combattimento sarà divertente non sei stronti non è vero Cosa da qua? Cosa da qua? Grazie.